Luca Regoli, capitano dei giovanissimi della Polisportiva Santissimi e Pietro e Paolo, trionfo importante perché la semifinale era un obiettivo importante, primario, ci siete arrivati soffrendo contro il Mirabello. Sì, è vero, una grande squadra, però noi non abbiamo mollato dopo il 2-1, siamo riusciti a rimondare. Adesso questo successo vi porta in finale, nella finalissima. Noi ci metteremo tutta per vincere questa finale, la seconda che giochiamo e la vinciamo. Senti, questo campo vi ha aiutato tantissimo? Sì. Ci voleva? Ci voleva, dopo un campo di terra battuta, questo inzintetico, molto bello. Cristian Carafa, prestazione importante, alla fine vincente per voi, avete sofferto contro questo Mirabello, bella squadra, però alla fine siete arrivati all'obiettivo, quello di vincere, per staccare il biglietto della finalissima. Sì, il Mirabello, la squadra è molto dura, tutti i sacrifici fatti in alleamento, ci hanno ripagato, abbiamo staccato il biglietto per la finale. Senti, vi eravate un po' illusi dopo quel gol iniziale di Morlino, dopo un giro di lancette? Eh, c'è stato subito il gol iniziale di Morlino, ci siamo un po' rilassati, infatti il mister nel secondo tempo ci ha spronati a continuare a dare l'anima, perché poi eravamo stati sorpassati. Adesso c'è questa finalissima? Sì, sì, siamo prontissimi per portare a casa il titolo regionale. Senti, 90 minuti, si deciderà tutto in 90 minuti, in una partita dovete mantenere la giusta concentrazione? Sì, sì, cercheremo di non avere i cali di concentrazione, di mantenere il giusto piglio alla partita dall'inizio alla fine.